Buongiorno a tutti, allora magliettina nuova, nuova si fa per dire la magliettina della settimana. Perché magari non si vede, eccolo qua, giriamo, giriamo, facciamo, facciamo, eccoci qua. Allora, 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 non mi dico nulla, sono due cold news che riguardano un personaggio iconico degli anni Ottanta, non positivo, ma che forse è stato molto utile per evitare a qualcuno di fare la stessa fine. Secondo, è uno dei personaggi più simpatici tra i caratteristi dei film degli anni Settanta, Ottanta e giù di lì. Quindi, bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo col primo personaggio che vi vado a presentare. Il nome Christian Felsherinov, spero di averlo pronunciato giusto, forse non vi dirà niente, ma dietro quel cognome teutonico si sasconde una delle eroinomani più famose al mondo, diventato una sorta di esempio da non emulare. La sua storia, infatti, è quella al centro del libro Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, trasportato su grande schermo nel 1981, diventando in brevissimo tempo un vero e proprio cult, grazie anche al cameo di David Bowie, che ahimè ci ha lasciato anche lui. Oggi, Christian F., nome con cui è più conosciuta, ha compiuto 57 anni. Le sue condizioni di salute sono ancora precarie per colpa dell'epatite C che contrasta negli anni Ottanta e, alle spalle, ha una vita fatta di tantissime ombre e tenebre. Già a partire dall'infanzia, infatti, la vita di Christian non è delle più semplici. Nata ad Hamburgo, a sei anni, si trasferisce coi genitori a Berlino, nella speranza di poter trovare condizioni di vita migliori. Ma l'atmosfera in casa Felcherinov rimane ancorata al fondo. Il padre di Christian è così insoddisfatto della sua vita e della povertà in cui imperversa la famiglia da diventare molto spesso violento. Atteggiamento che avrà ripercussioni sulla giovane Christian. Ripercussioni che si aggraveranno quando, dopo la separazione dei genitori, Christian vedrà sua sorella lasciare la casa e trasferirsi lontano insieme al padre. Solo anni più tardi la ragazza, ormai divenuta donna, racconterà che quel padre violento aveva abusato ripetutamente di lei e di sua sorella. In effetti, uno dei motivi per cui Christian F. ha preso un po' le distanze dal film sulla sua vita è proprio per questo motivo. Non racconta come sono cresciuta, ha detto, come sono stata abbandonata dai miei genitori. Mio padre era un alcolista e abusava di me. Christian comunque prosegue la sua vita fino a quando, a 12 anni, conosce Cassie, con la quale inizierà il lungo periodo nel labirintico mondo della droga. Il battesimo al mondo degli stupefacenti inizia con l'ascis, ma Christian non impiegherà molto prima di passare a quelle sintetiche, finché un mese prima di compiere 14 anni, all'alba del concerto di David Bowie, la ragazza assume per la prima volta la sua prima dose di oronoina per inalazione. Ci vorrà circa un anno prima che il primo ago gli apra una vena per far entrare immediatamente in circolo l'eroina. Tutti i pomeriggi la ragazza si recava alla stazione dello zoo a Charlottenburg, Charlottenburg, io il tedesco fortunatamente non l'ho mai studiato, ma credo che farei una fatica immane, per procurarsi l'eroina e quando non aveva soldi per comprarsela, vendeva il suo corpo per racimolare il denaro. Christian vive dunque una vita dove la mattina si recava a scuola e il pomeriggio era impegnata a prostituirsi, così come facevano le sue amiche e il suo fidanzato Detlef, che si prostituiva con ragazzi omosessuali. Nonostante alcuni tentativi fatti per disintossicarsi, la ragazza continua a essere sempre più immersa nel mondo della droga e assiste alla morte di amici e di un ex fidanzato. La morte dell'amica Babette, quando Christian ha solo 15 anni, la spinge sull'orlo del baratro. Tenta di togliersi la vita assomendo una dose eccessiva di droga, ma verrà salvata. A quel punto sua madre decide di rispedirla ad Hamburgo, lontana dalle tentazioni e dagli eccessi. E' qui che, a 16 anni, Christian F. scriverà il suo libro di successo. Il successo del libro è immediato e quando anche il film riscuota un discreto successo, chiamalo discreto, Christian F. si ritrova di colpo sotto la luce dei riflettori, in un mondo che le punta gli occhi addosso. Proprio a lei che si è sempre sentita estremamente sola. Volevano tutti parlarmi, ha ricordato. Non mi avrebbero voluta, come vicina di caso, come fidanzata dei loro figli. Grazie al film, Christian ebbe la possibilità di incontrare il suo idolo, David Bowie. La donna, scusate, giro pagina, ha raccontato di quanto fosse felice all'epoca di sapere che sarebbe andata alla prima del film insieme al cantante, ma di essere rimasta estremamente delusa nell'essere se l'ho trovato davanti, piccolo e magro, come se fosse una versione diversa dell'uomo che vedeva sulle copertine degli album musicali. La promozione del film la portò non solo a tentare la carriera di musicista e di attrice, ma anche a conoscere gli Stati Uniti. Christian visse per un po' a Passadina, ma poi fu processata per detenzione di eroina e fu espulsa dagli Stati Uniti d'America. Nel 1993, dopo aver vissuto in Grecia con il fidanzato e aver assistito al suo arresto per droga, Christian torna finalmente a Berlino. Nonostante il successo delle nuove disponibilità economiche, Christian continua a essere morbosamente legata al mondo della droga, nonostante abbia più volte parlato di tentativi di recupero e della scelta di allontanarsi per sempre dal mondo dell'eroina per il bene del figlio. Ben presto i tabboiding tedeschi riportano la notizia che Christian perse la custodia del figlio proprio per la sua ricaduta nel mondo della tossicodipendenza. Nel 2008, il Der Spiegel, uno dei giornali che più di tutti si era impegnato a seguire la vita di Christian F., riuscì ad ottenere un'intervista con la madre della ragazza, che parlò per la prima volta pubblicamente di sua figlia e dei suoi problemi di droga. Secondo lei furono proprio il successo del libro e del film a peggiorare la vita della figlia. Pensiero condiviso dalla testa a Christian. Raccontare la mia storia mi ha accorciato la vita. Se non avessi avuto tutti quei soldi, non avrei potuto comprare l'eroina per tutti quegli anni. Magari avrei smesso Piri, ma ora le mie condizioni di salute sarebbero migliori. E proprio sulle sue condizioni di salute Christian F. non si risparmia. Uso il metadone e bevo troppo. Il mio fegato sta per uccidermi. Morirò presto. Se noi ragazzi dello Zor di Berlino raccontavano la storia della donna fino al primo salvataggio da parte di sua madre, il secondo libro di Christian F. Shcherinov, o Christian F. che dir si voglia, uscito nel 2014 per Rizzoli con il titolo La mia seconda vita, racconta gli avvenimenti che vanno dagli inizi degli anni Ottanta fino ai giorni nostri. In queste pagine Christian racconta gli anni passati al fianco del chitarrista Alessander Haack, gli anni vissuti a Nick Cave, gli anni passati a Zurigo tra editori e artisti, quando Zurigo era al centro europeo per i tossicodipendenti, con la sua platzpitz per comprare e vendere droga. Christian racconta del rapporto con suo figlio. Sebbene ne avesse perso la custodia, la donna ha continuato a vederlo ogni settimana, stringendo con lui un rapporto solido e sincero. Ma anche in questo caso ad emergere è sempre la figura di una donna che non riesce a scappare dalla presa delle droghe e dalla tossicodipendenza. E quando le viene chiesto perché non ha mai davvero smesso di drogarsi, la donna risponde Non ho mai voluto smettere. Non conoscevo altro nella mia vita. Ho deciso di vivere una vita diversa da quella degli altri. Non ho bisogno di un pretesto per smettere. Purtroppo certe dipendenze è difficile eliminarle quando sono ormai radicate dentro di te. Poi però si fanno delle brutte fine. Purtroppo noi ne sappiamo qualcosa, ma non voglio aggiungere altro. Veniamo a una notizia più allegra, diciamo, anche se questo personaggio simpaticissimo ci ha lasciato molto presto. Franco Lechner, magari a molti di voi, non dirà una beata Giovanna, ma se vi dico bombolo, bombolo, romanaccio che più romanaccio non se può, approda piuttosto tardi sul grande schermo. Nato nel 1932, non si hanno tante notizie della sua vita precedente alla sua carriera di attore, se non che lo scoprì Bruno Corbucci, che subito ne intuì le singolari doti espressive e il latente potenziale comico. Così da venditore ambulante di stoviglie diventò uno dei nostri volti simbolo del cinema anni 70-80. La sua mimica facciale, la voce inconfondibile, l'uso del romanesco è un linguaggio abbastanza triviale, lo hanno fatto diventare la spalla di attori come Pippo Franco e Enzo Cannavale. Bombolo e Cannavale erano copia fissa in tanti film, oltre che uno dei caratteristi favoriti da giovani e giovanissimi degli anni 70-80 del 900, quindi 1970-1980. Ma veniamo all'inizio della sua carriera, perché furono le sue prime comparsa nei film ad accrescere la sua popolarità. Probabilmente non è diventato ricco, come dicono i suoi amici, ma le sue comparse, più o meno rivelevanti, gli hanno dato notorietà anche sul grande schermo. Lanciato definitivamente con Squadra Antifurto nel 1976, apparirà in ben 40 film e anche in televisione. La notorietà di Bombolo è però legata a Thomas Millian, con cui ha interpretato ben nove film, rivestendo il personaggio di Venticello, maldestro raduncolo e informatore della polizia, in particolar modo dell'ispettore Nico Giraldi, prodico dispensatore di sonori sganassoni. Nonostante divenne ben presto un idolo per tutti, amatissimo e ricercato, il suo spirito popolare non lo abbandonò mai e quel suo voler rimanere legato alle sue origini non mancava mai occasione di rimarcarlo. Quando registri e attori lo invitavano a pranzo, lui rispondeva sempre «Io magno con quelli del popolo come me» e poi «Uno ne sapete magna». Rimaneva a tavola con gli operai del set, mostrando da subito la sua più talea versione per la roulotte messa a disposizione per gli attori principali e quindi simbolo della notorietà. Una delle cose che amava di più era cucinare durante le pause sul set. Con il suo cappello da chef spariva in cucina per poi ricomparire con te pentole piene di spaghetti al dente. Il suo ultimo film lo girò con Nino D'Angelo «Era giuro che ti amo» del 1986. Nel film si può vedere abbastanza chiaramente un bombolo stanco, dimagrito. Questo perché lo stesso anno rischiò di morire per una meningite acuta che lo portò a tre giorni di coma. La sua ultima apparizione in scena sul palco del Salone Margherita con la compagnia del Bagaglino avvenuta l'otto maggio 1987. Quella sera fu aiutata a salire sul palcoscenico a causa della debolezza dovuta alla malattia ormai incombente. Il 21 agosto dello stesso anno Mombolo ci lasciava ad appena 56 anni allo spagnale Forlanini di Roma stroncato da un tumore incurabile Durante i suoi funerali il 24 agosto del 1987 a Santa Maria in Vallicella c'era anche Thomas Milla nascosto dietro una colonna per non farsi riconoscere. Quando il fenetro gli passò vicino come avrebbe lui stesso raccontato allungò la mano verso la bara per dare a Bombolo un ultimo affettuoso buffetto lo schiaffo di addio a un amico che sulla scena ne aveva appresi davvero tanti. L'attore riposa nel cimitero Flaminio a Roma e l'epitafio sulla sua tomba riporta la scritta Ciao Bombolo Core de Roma Di Bombolo non c'è nessun attore che non lo ricordi con affetto e amicizia anche perché sembra che non ci fosse grande differenza tra il Bombolo della vita e quello dello schermo. Si può chiamare in mille modi Venticello Ertrippa Patacchiola ma sempre Bombolo rimane. Bene spero di avervi fatto venire un po' di tristezza a parlare del buon Bombolo che ci ha lasciati ahimè a solo 56 anni adesso ne avrebbe avuto 90 pensate se era del 32 siamo nel 1900 magari siamo nel 2022 quindi 32 2022 90 anni però ci ha lasciato purtroppo quando ne aveva solo 56 nel lontano 1987 detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima vado a prepararvi il riepilogone della serie A ciao ciao